Buongiorno bambini, allora intanto ciao a tutti, mi è mancato un sacco, questo lo dovete sapere. Argomento di oggi, moltiplicazione in colonna con i numeri decimali. Allora proviamo a fare questa moltiplicazione, intanto i numeri decimali, lo sapete già, sono i numeri con la virgola, allora faccio 2,48 per 1,4. Come incolono questi numeri? Lì incolono senza tener conto della virgola. Quindi scriverò 2,48 per 1,4, uguale a 4 per 8, 32, scrivo 2 e riporto di 3. 4 per 4, 16, più 3, 19, scrivo 9 e riporto di 1. 4 per 2, 8, più 1, 9. Ora calcolo il secondo prodotto parziale. 1 per 8, 8, ah scusate, metto un trattino sotto le unità e faccio 1 per 8, 8, 1 per 4, 4, 1 per 2, 2. Ora sommo i due prodotti parziali. Primo prodotto parziale, secondo prodotto parziale. 2 più 0, 2, 9 più 8, 17, 7 riporto di 1, 9 più 1, 10, più 4, 14, 4 riporto di 1, 1 più 2, 3. Ora cosa faccio? Vado a contare quante sono le cifre dopo la virgola al moltiplicando. Ne ho due. E al moltiplicatore ne ho una. 2 più 1 fa 3, vado al prodotto finale, conto 3 posti, 1, 2, 3, e metto la virgola. Quindi il risultato della mia moltiplicazione è 3,472. L'avete visto? È semplicissima. Mi raccomando, se avete qualche dubbio, qualche problema, mandatemi un messaggio. Un bacione a tutti.